Eccoci qua cari amici di Meteo Giuliacci, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Nel posto immacolata la situazione resta ancora molto movimentata, abbiamo anche fatto la rima perturbazione che va, perturbazione che viene, perturbazione che va e perturbazione che viene. Guardate, il tempo peggiore sul nord-est, dalla Lombardia verso est, quindi sul Triveneto, Emilia-Romagna, piogge sparse sul nord-ovest, su Piemonte, sulla Val d'Ostria, situazione un po' più tranquilla, sul nord-est nevicate sino a quote collinari, ma il tempo sarà instabile anche al centro, al sud e sulle due isole con rovesci di pioggia, qualche temporale, fenomeni anche di moderate intensità sul versante tirrenico, nevicate sull'Appennino mediamente, almeno in una prima fase, oltre i 1.400, 1.300, 1.500 metri, poi l'afflusso di aria un po' più freddina in quota farà abbassare le fioccate sull'Appennino centro-meridionale, sin verso i 1.200, 1.000 metri. Per il momento, cari amici di Meteo Giuliacci, è tutto, buon proseguimento di settimana, arrivederci.